Allora signori, l'uomo francese di Pandabai è appena tornato, col pigiama e 15 kg di pacco. Buongiorno! Bentornati tutti finalmente in un nuovo aule di Pandabai. Chiaramente siamo anche in collaborazione del Corriere più Fresco d'Italia. Capisci, ragazzi, sono detto che ho fatto una francia per oggi e io lavoro sempre e non mi fermo mai. Cosa ci hai portato oggi? Vediamo un pochino. Eeeh, dovrebbero essere vari item, tipo scarpe, qualche magliette, qualche pantaloncini, calze. Iniziamo da questo piccolino. Ricordiamo ragazzi 15 kg, quanti like chiediamo signor Corriere per questo video? Ma dato che io sono appena ritornato dalla Francia e sono stanco, ne chiediamo almeno 200-250. Ok, onesto eh ragazzi, iscrivetevi tutti, mi raccomando. Prima di partire le avvertenze le lascio fare al Corriere questa volta. Ok, devi dire... Non lo so, cioè... Ragazzi, aspetta, aspetta. Ragazzi, vi ricordiamo che questi video sono tutti a scopo illustrati... Guarda la tua stessa frase, tu me lo stai dicendo uno che è ritornato dalla Francia, stanco. Chiaramente ragazzi, voglio ricordarvi che acquistare capi fake è reato, quindi non fatelo. Noi li acquistiamo proprio per mostrarli nei video e per uno scopo contenutistico, ma non si fa ragazzi. Iniziamo subito con questo pacchettino, andiamo a vedere un po'. E' yours! Vediamo qua. Uh! Calzini NBA, raga. Top del top! Subito ad aprire, vediamo un pochino. Allora, abbiamo qui calzini Nike per NBA, pagati quanto? Beh, 1 euro 12, raga, guardate le etichette e tutto, come sono fatte bene. Comunque ragazzi, io vi ricordo, se volete che portiamo sto contenuto, lasciarci un commento o un mi piace, fate una cosa, fatela a questo LeonardoTV, iscrivetevi al canale. Esatto, ragazzi. E poi potete anche fare un'altra bellissima cosa, di seguirci sui nostri Instagram di LeonardoTV e del grandissimo Isaia. Nomi, chiaramente raga, ve li lascio qui a schermo con una bellissima animazione, grazie intanto per tutto il supporto su questi video qui. E calze ragazzi veramente freschissime, finalmente si cambierà un pochino dal classico calzino Nike con solo il logo, perché qui abbiamo anche il Jumpman di NBA, veramente figo. L'altra, vabbè, chiaramente identica, ve la facciamo vedere giusto per, eccola qui. Partiamo con il secondo pacco, signori, vediamo un po'. E qua abbiamo una felpa, ragazzi. Cavallini sulla nostra felpa, signori, Ralph Lauren è sempre una garanzia, andiamo un pochino a vedere. Eh, raga, comunque Pandabai sulle cose, quel quality. Poi comunque, ragazzi, alla fine di questo pacco opening, di questa box, vi dirò quanto è costata la spedizione. Esatto, raga, vi faremo sapere anche quello, perché l'avete chiesto in tanti. Intanto qua facciamo vedere sempre il cartellino, ragazzi, il back fatto bene. Qua abbiamo appunto tutte le cose del caso, fatte bene, la taglia, la scritta, cerniera, che vi faccio vedere, funziona tranquillamente, ecco qui. Poi questa, raga, è una taglia M. Esatto. Felpa grigia, basic, così caruccia. E poi troviamo appunto il classico logo di Ralph Lauren, che questo qua, ragazzi, va bene, non lo sbagliano mai, è fatta bene. Adesso ve la facciamo vedere indossata. Allora, ragazzi, questa qui è indossata da Isaia, peso di 86 kg, altezza 1,90 circa, dietro è tutta grigia, così basic. E poi girandosi, eccolo qui, abbiamo il cartellino che teniamo per drippare. Poi, passiamo subito a delle shoes. Vediamo un attimo se abbiamo le classiche military black, che raga, ormai non le sopportiamo più, ma vediamo un attimino. Il box mi sembra diverso. Ok, ragazzi, box, Nike Air, Air Force One. Quindi abbiamo delle Air Force, non solo a colorway, ma vediamo subito. Attenzione. I signori sono... Black, ok, black. Io preferisco le bianche, però comunque ci sta. Andiamo a vedere un po' la quality. Pagate quanto prima di tutto? 20. Questo è 20 euro, ragazzi. Vediamo un attimo come sono fatti. Qua sembra tutto giusto, i buchi sono corretti. Lo svuscio è fatto bene, non è storto. Il dietro le cuciture, tienila dritta. Ok, vediamo un pochino. Adesso non so se si nota bene in video, ma le cuciture, ragazzi, sono fatte bene, quindi ottimo. Poi vi ricordo, prezzo di 20 euro, avete delle Air Force nere comunque di una qualità molto vicina all'originale. Inoltre, cartellino, vabbè, Nike cinese, quello non lo vogliamo. Vediamo anche l'altra giusto per corretti. Ok. Come vedete, ragazzi. Sempre Bandaboy, sempre top del top. Veramente, oh. Non ci delude mai. Testo dell'odore, vediamo un pochino. Eh, no, sincero. Testo dell'odore, niente, ragazzi, sì. Puzza di fabbrica proprio. Però, vabbè, anche quelle originali non profumano, magari queste hanno un po' di odore, ma lasciate comunque. Tra l'altro guardate la carta pure con i dettagli, con scritto AF1, veramente top. Adesso, ragazzi, iniziamo con il quarto. Vediamo un po' cosa c'è. Attenzione, raga, Stussi, eh. Stussi mi piace un po' come brand. Eccolo qui. Abbiamo una t-shirt. Andiamo subito ad aprire. Facciamo vedere subito, subito, l'etichetta nel dettaglio. Qui il cartellino. E dietro, vabbè, abbiamo un po' di robe. Ah, no, non sono in cinese. Ok, bravi stavolta. Però abbiamo questo che, come vedete qui, tutto normale, lo giriamo. Cinesini. Però va bene. Andiamo ad aprire la t-shirt. Allora, intanto un bel bianco. Qua davanti abbiamo il logo di Stussi. Bella, rega, bella. E nel back... Mamma mia! Bellissima sta stampa. Questa, raga, per l'estate è strafresca. E se non sbaglio questa te la sei presa per te, mi avevi detto, vero? Eh, sì, fratello. Il prezzo di questa coppia è di 10 euro. 10 euro, ragazzi, per una maglietta con stampa e logo davanti, Stussi. Qui non ho la minima idea di cosa ci sia scritto, però se qualcuno di voi lo sa me lo fate sapere in un commento. Partendo da davanti, adesso, vabbè, un po' stropicciata comunque. Che taglia ti sei preso? XL. XL, infatti, ci sta, gli sta bene. Qua abbiamo il logo. Come vedete è stampato bene. Questo qui non va via con i lavaggi. Vediamo un po' il back. Eh, raga, il back è veramente figo. Mi piace. Anche qui la stampa è fatta bene. Poi chiaramente bisogna vedere un po' con i lavaggi, ma conoscendo il seller fa sempre magliette fighe e che non si rovinano con i lavaggi. Ragazzi, per quanto riguarda le calze di prima, c'è anche la colorway così bianca che onestamente la preferisco soprattutto per l'estate. E non sto neanche ad aprirle, però sono fatte come le altre, quindi veramente bene. Ah, sì, raga. Passiamo al quinto pacchetto. Io so già cos'è dalla pesantezza dell'oggetto. E vediamo, scopriamo così. Packaging carino. Ragazzi, attenzione, Ralph Lauren. Lo sapete che è la mia marca preferita. Bellissimo, ok. Comunque, beh, packaging, signore, eh. Sincero, le persone che hanno acquistato questo prodotto hanno ottima scelta, eh. Andiamo un pochino. Bella questa. Il colore mi piace un botto. Il mio colore preferito, raga. Il navy blue. È il navy blue, esatto. Con il cavallino rosso. Tra l'altro, non so se rende dal video, ma è quel tessuto pelusetto, appunto. Sì, sì. Etichette, vabbè, sempre al top, ragazzi. Sempre fatte bene. E andiamo subito a vederla addosso, questa. Pagata quanto, tra l'altro? 9 euro. 9 euro. Vediamo un pochino. Partendo da dietro, ragazzi, possiamo vedere il back gigante di Zaya. Girati un pochino, vediamo. Allora, questa è una taglia M e chiaramente lui la riempie un botto. Cazzo di energumeno. Però, comunque, ci sta. Secondo me, anzi, vestirsi un po' più stretti valorizza anche il fisico, quindi niente male. Ma, passando alla maglia in sé per sé, ragazzi, fitta bene. Quel tipo di fit sport, comunque, pulita, clean, elegante, quindi super approvata. Io, ragazzi, adesso siamo all'ultimo item del primo pacco. E comunque, volevo dirvi che ho ospitato tutti questi item in due pacchi, perché se no mi costava molti di più la spedizione. E comunque, li ho spediti con Tarifers, Line B, e ho speso 58,18 del primo pacco. Adesso, unboxiamo l'ultimo item. Ultimo pacchettino del primo pacco. Vediamo un pochetto. Ok, ok, lo sapevo, lo sapevo. Cavallini di mo sulla nostra felpa, ragazzi. Felpa Ralph Lauren come quella di prima, ma questa volta bianca. Non sto neanche a farvi vedere troppo le altre cose, tanto lo sapete che è fatta benissimo. Questa l'ho comprata anche per me per l'estate, infatti la vedrete in un altro haul. Comunque, la felpa è di taglia M. Questa, raga, la vediamo molto alla veloce. Felpa, appunto, total white con cavallino di Ralph Lauren, colore black. E, niente, raga, felpa bella. Questa qui, perfetta per l'estate. Stra consigliata. Io, ragazzi, ecco con il secondo pacco di 5 chili. Ho speso in questa spedizione 77,50 euro. Sempre Tirefless Line B. Adesso scopriamo cosa c'è dentro. Andiamo un po', ragazzi, 5 chilozzi, eh. 5 chili di roba. Partiamo subito con questo box di una shoes. Allora, raga, box della Nike. Vediamo subito. Attenzione, ragazzi. Delle Dunk, ok. Queste qui sono le Dunk. Come si chiamano, già? Dunk Bon. Belline, raga, queste. Size 42, signori, per chi volesse sapere. Belle, eh, sincero. Sì, sì, infatti non sono male. Anche la color, raga, è particolare. Nel senso, deve piacere, però non è male, eh. Come shoes. Queste qui non andiamo a provarle, perché, ragazzi, il piede nigeriano... Non so se si vede, ma... 47,5, quindi direi di no. E l'odore, vediamo un po'. Ok, l'odore è sempre un po' di fabbrica, ma ci sta, ragazzi. La scarpa in sé per sé è fatta veramente bene, i materiali sono buoni, i buchi sono giusti, come potete vedere. Non so se avete delle Dunk originali. La suola è fatta bene, il logo Nike è messo bene. E infine, dietro, ragazzi, anche la cucitura qui è fatta precisa. Dimenticavo di dirvi che il prodotto è costato 43 euro. Allora, signori, su queste calze qui, intanto ne abbiamo tre paia, andiamo subito ad unboxare. Abbiamo un full white, vediamo un attimo qui dentro cosa abbiamo, se viene fuori. Un full white, ottimo, per stare freschi per questa summer. E infine, ragazzi, abbiamo un full white di nuovo. Abbiamo di nuovo un full white, ok. Pagate un euro e qualcosa una confezione da cinque paia. Tra l'altro ne abbiamo già parlato in un altro video di Panda Bike, potete recuperare sul canale, se non li avete visti, mi raccomando, raga, giù a guardarli. Lascio il link in descrizione. E ve ne faccio vedere giusto un paio. Comunque, sono calze Nike semplicissime, ma fatte bene e si risparmia molto, perché, come sapete, le calze Nike, ragazzi, costano veramente un bordello. Alla fine, c'è il tipo di calza più usato. Qui, ragazzi, abbiamo una felpozza. Attenzione, felpa di, cosa abbiamo qui? Carrart, ok. Questa marca qui, raga, non ho mai comprato nulla e vediamo subito com'è la felpa. Vi dico subito che sul colore per me è un no, però ovviamente sono gusti personali, perché c'è gente a cui può piacere questa colore. Chiaramente vanno rispettati. Qua il logo è messo benissimo, raga, questa penso sia proprio 1-1. Andiamo a vederla subito indossata. Dimenticavo, ragazzi, il cartellino, questo qua è il davanti e questo è il dietro, cartellino 1-1. Allora, raga, questo qui è il back, quindi tinta unita e girandosi possiamo vedere il logo di Carrart nel suo splendore. Eccolo qui. Questa felpa qui, raga, è basic, è un po' come la North Face, no? Che abbiamo solo il logo, qua abbiamo la scritta, ma devo dire che comunque nei giusti outfit non è niente male. Poi vabbè, qualitativamente è anche buona. Comunque, ragazzi, il prezzo di questo acquisto è di 15 euro. Allora, ragazzi, maglietta, penso. Qua abbiamo il logo di Cortez, vediamo un attimo. Qua abbiamo anche tipo una scritta. The life you live is either a daring adventure or nothing at all. Ok, ragazzi. Apriamo subito. Altra carta protettiva. Signori, maglietta a maniche corte di Cortez. Questa volta, posso dirlo, raga, non mi piace. Non mi piace per il fatto che abbiamo queste stelle rosse, però comunque non è neanche malissimo, ma non è una delle mie preferite, sicuramente. Invece, parlando qualitativamente, è buona, ragazzi. Nel senso, la stampa è fatta bene, come state vedendo, grazie all'ISAIA. L'etichetta, raga, sempre bella, perfetta. Pagata, ragazzi, 12,55 euro. Il back è tinta unita, quindi niente da vedere. Andiamo subito a vederla addosso. Allora, raga, qui abbiamo una taglia M e comunque, come vedete, veste oversights. Per il resto, comunque, una maglietta caruccia. Non avessero messo queste stelle, ragazzi, secondo me saliva molto, però dai, ci può stare. Allora, qui che cosa abbiamo? Di nuovo una maglia di Stussi. Stussi, raga, fa delle stampe troppo fighe, quindi andiamo subito a vedere. Ok, davanti, ragazzi, Stussi, lo sapete, ormai mette appunto il suo logo, che comunque è veramente figo. Qua abbiamo solite cose, etichette fatte benissimo, che non stiamo a rivedere. Vediamo un po' la stampa. Ok, allora, questa particular, Stussi International 2021, abbiamo un po' di scritte in inglese. E questa roba qui che dovrebbe essere tipo un minerale. Allora, secondo me è più figa l'altra come stampa, ma anche questa può avere il suo perché. Vediamola indossata. Allora, davanti, ragazzi, tinta unita con logo Stussi. Vediamo il back. Ok, è indossata, ragazzi, è così. Lascio a voi commenti, onestamente non mi piace tanto, questa qui è per un suo cliente, però comunque, dai, è ancora passabile. Non fosse forse per le troppe scritte, ci potrebbe stare. Polo Ralph Lauren, è un costume? Sì. Oh, ragazzi, qua mi copiano le idee i clienti di Isaia, mi sono preso anch'io dei costumini polo. Eh, ragazzi, qualcuno si vuole preparare ben bene per quest'estate. E vi giuro, ragazzi, è lo stesso identico costume che ho comprato anch'io. Costume Total Black con logo di Ralph Lauren e devo dire che questo qua costa 8 euro. È proprio lo stesso identico link, fai vedere anche sul telefono, se vuoi. Ecco qui. Questo, ragazzi, straconsigliato. Adesso che ce l'ho tra le mani posso dirvi che li vale tutti, dentro è bianco così. E se volete drippare per quest'estate andate sul sicuro con un costumino Ralph Lauren. Eh, siamo arrivati all'ultimo pack del secondo pack, signori. Andiamo un po' a vedere. Allora, intanto, raga, spoiler, questo qua è un completo, quindi abbiamo pantalone più felpa. Partendo dalla felpa, ragazzi, abbiamo una marca un pochino maranzina, però ci potrebbe stare. Felpa Lacoste, senza cappuccio, tra l'altro. Ok, questa dopo la andiamo a vedere nel dettaglio, appunto, indossata. Qui abbiamo la roba Lacoste, ragazzi, l'etichetta, perfetta. E poi, ragazzi, abbiamo il pantalone. Il logo di Lacoste che non è stampato, ma appunto è ricamato. Andiamo subito a vedere il completo. Allora, raga, partendo da dietro siamo full tinta unita. Giriamoci un pochino. E, ragazzi, davanti abbiamo, appunto, completo Maranza, pronto per andare a fare quello che fanno in Maranza. E vi devo dire, ragazzi, sembra uno di quei completi da moto, però comunque, tutto sommato, tu che dici? Vado, sincero, è clean. Comunque, c'è, pulito. Questo qua, ragazzi, pagato quanto tutto il completo? 31, signori. Infine, ragazzi, penso che si riconosca più o meno già dal dietro, girati pure. Abbiamo una Nike Tech, ragazzi, grigio e nera. Questa qua, vabbè, maranzina, non maranzina, ragazzi, è carina, ci sta. È forse un po' passata di moda, ma comunque rimane una felpa, niente male, vero? Però comunque, questa è la Nike Tech di una nuova edizione, quindi, perché vedete le tasche... È vero, è vero, mi sono dimenticato se nuova edizione. Ci sta, ci sta, raga, forse preferisco l'altra con doppio colore, ma non è male. Ragazzi, ringrazio Lisaia, perché comunque qui abbiamo 15 kg di vestiti e accessori per il nostro video. Tanta roba, signori. Grazie per la vostra attenzione e tutto. Io direi che ci salutiamo e ci becchiamo. A un prossimo video. Video.